Bentornati a tutti. Oggi è martedì, 16 aprile 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo pesci. Segno fortunato. Un martedì speciale da sembrare domenica. Un martedì così speciale capita di rado, al punto che potrebbe stare tranquillamente al posto di una bella domenica. Tanti gli astri rassicuranti e promettenti che vi sentite il cuore canterino e l'anima in festa. A cominciare dal trigono acquatico inviato dalla bianca signora nel segno amico del cancro ai vostri ospiti Marte operativo e Nettuno sognatore, immaginatevi Stanlio e Olio e avrete il quadro completo della situazione. Ugualmente protettivo Giove, particolarmente versato per gli studi e gli affari a cui la scintilla di urano infonde un tocco speciale. A tutto questo aggiungete la faccia di bronzo del sole e di mercurio che dalla casa numero due, quella che parla di soldi, oggi ve ne fa intascare parecchi e spendere molto meno. Insomma una giornata fortunata come questa si fatica a immaginarla e quando la si trova bisognerebbe tenersela stretta e farla durare almeno 240 ore anziché le naturali 24. Una massima giapponese sulla vostra fortuna su cui riflettere, nella casa di persone che affrontano la vita col sorriso arriverà la felicità. La coppia conosce un impulso di vitalità e nuova linfa scorre in essa. Potrebbero esserci nuovi interessanti incontri, magari nel corso di viaggi programmati per lavoro. Per i single si prospettano viaggi dai quali potrebbero tornare. In coppia. Fate controllare l'auto o la moto, meglio prevenire eventuali piccoli guasti che potrebbero poi diventare troppo onerosi da riparare. Potreste sentirvi irritati a causa di una notizia che sopraggiungerà nel tardo pomeriggio. Ma non preoccupatevi eccessivamente, in questi giorni arriverà una buona notizia che vi farà dimenticare questa irritazione. Non affliggetevi più di tanto se avete mancato un'occasione importante, presto si ripresenterà e goiderete dei frutti di un piccolo successo personale. Occhio a portafogli e borse. Amore in altalena, mentre sentirete la necessità di essere coccolati, avvertirete l'impulso di distaccarvi da tutto ciò che sono i sentimenti. In questa giornata alcuni aspetti planetari sono positivi ed altri negativi, dovrai fare attenzione alla tua impulsività. Benissimo il lavoro. Inventiva e capacità intellettive. Bene essere. Farai colpo su qualcuno. Potrai dare pieno sfogo alle tue curiosità intellettuali. Messaggi o telefonate in arrivo, per alcuni sarà un punto di inizio e Giove determinerà il successo pieno. Per altri si tratterà invece della conferma di un periodo poco felice. Alcuni potrebbero avere dei piccoli disturbi agli occhi o alla vista, niente di preoccupante, basterà un po' riposare gli occhi e riposare di più. Non fate le ore piccole e cercate di assumere le giuste ore di riposo. Buone nuove in arrivo, anche se tra la posta potrebbe serpeggiare qualche multa o cartella esattoriale. Ricordatevi di assolvere per tempo i pagamenti. Giove, pianeta attivo e vivace, dal segno attivistico del toro, sta dissodando il terreno affinché la pianta della buona fortuna e quella della letizia mettano profondi radici, specie se nascete in marzo. Intanto per oggi, avrete una giornata calma e senza particolari preoccupazioni. Ci sarà da brigare un po' di più in famiglia, settore dove sarete chiamati a intervenire con la vostra capacità di minimizzare le difficoltà e di mettere ordine. Perché i moti planetari vi stanno regalando una primavera dinamica, fatta di novità interessanti, di ribaltamenti piacevoli di situazioni, di nuove amicizie che vi rallegrano lo spirito. Con i due pianeti più antipatici del sistema solare, Marte Guerra Fondaio e Saturno Cinico, nel segno, non attraversate un periodo particolarmente felice. Ad addolcirvelo tuttavia oggi provvede la luna, signora della giornata, nel segno amico del cancro, intrigono al vostro, supportata per giunta dal doppio sestile di Giove, generoso e protettivo per Antonomasia, e dal suo compare Orano, fautore di leonardeschi colpi di genio. Benone anche le finanze e già dirlo sembra un miracolo, ma con il sole e mercurio collaborativi in seconda casa, le spese ci sono ma tutte intelligenti e subito rimpolpate da guadagni sufficienti a coprirle. Insomma si parte male con le scarpe strette ma cammin facendo, lungo l'asse della giornata, le cose migliorano al punto da non farvi più sentire nella genna. Casomai nel giardino dell'Eden. Amore ed Eros. Un filo di possessività da parte del partner non vi dispiace, lo amate lui o lei ama voi con pari intensità. Se vi avete messo un po' prima di decidervi è arrivato il momento del sì, in progetto convivenza, confetti, magari anche una culla. Se invece i pupi poi ci sono già bravi, belli e simpatici ne andrete orgogliosissimi, sono i bambolotti di tutto il quartiere. Lavoro e denaro. Duro, del resto per creativi sognatori del vostro calibro doversi occupare di questioni ordinarie, pragmatiche e concrete è già uno strappetto nell'anima. Se poi per farlo vi tocca anche sgomitare e affrontare interlocutori impazienti e maleducati, la situazione si fa ancora più grigia. Fortunatamente a sostenervi c'è un ambiente empatico e solidale, se poi in qualche frangente avete modo di liberare la vostra creatività lasciandovi ispirare dal momento, il vostro talento sarà apprezzato e messo in luce, garantendo tra l'altro ottimi guadagni, meglio di così solo nelle fiabbe. Entrate e uscite in pareggio, ma in compenso vi aggiudicate acquisti davvero interessanti in boutique, al supermercato e anche in libreria. Benessere. Magrolini e iperattivi ecco perché avete bisogno di mangiare più di altri colleghi o parenti che vi guardano storto dandovi del tricheco o dell'alligatore. Tutte invidia, voi potete permettervelo, loro invece no, se appena si concedono una fettina di dolce in più poi devono pagare i conti correndo almeno per mezz'ora attorno al quartiere. A mantenervi in forma un'alimentazione equilibrata in un piatto mini, tanto nuoto e acquaghime e un ambiente sostanzialmente sereno. Forse non tutti sanno che anche il nervosismo ingrassa. Per lei, mamme in gamba, altrettanto i ragazzi che avete educato bene fin dal primo giorno di vita con tanto amore, abbracci e baci, insaporiti con qualche sgridata, quando ci vuole, ci vuole. Per lui, a fare ben concluso intascando un discreto gruzzoletto, di voi si dice che abbiate la testa nelle nuvole ma oggi non sembra proprio. I vostri interessi sapete farli e come. Colore delle emozioni, argento. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 10. Beneessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.